Benvenuti a tutti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo dell'innovazione del settore assicurativo e ne parliamo con Marco Burattino, Sales Director Italia e Polonia per Guidewire e con Vittorio Giusti, CEO di Aviva Italia. Benvenuti. Bene, di innovazione del settore assicurativo, le assicurazioni avevano già iniziato da qualche anno a questa parte ad innovare all'interno dei loro gruppi, delle assicurazioni, della distribuzione. La pandemia di questo periodo del Covid ha spinto ulteriormente verso una profonda innovazione del settore assicurativo. Vediamo come e in quale direzione sta andando. Bene, Burattino, perché c'è bisogno di innovazione e come vanno superate le barriere all'interno del settore assicurativo? Buonasera, perché c'è bisogno di innovazione nelle assicurazioni per sbariati motivi. Anzitutto credo che siamo in un periodo nel quale lei faceva riferimento alla pandemia e quello che abbiamo vissuto, in cui ci sono sicuramente delle sfide dall'esterno che sono nuove e importanti. Ma in realtà anche prima della pandemia la mia sensazione era che già il mercato e le compagnie si fossero rese conto del fatto che la vera domanda non era tanto il vero imperativo, non era tanto riuscire a far meglio quello che si faceva prima, ma effettivamente c'era una sensazione della necessità di dover fare qualcosa di nuovo, di doversi inventare qualcosa e di dover appunto fare innovazione. Io credo che questo sia un momento del mercato assicurativo in Italia in cui effettivamente si ha il prodotto a guidarla, nel senso che c'è tanto di… ci sono tante idee nuove, ci sono tante cose in circolo, tante cose nuove in circolo in questo momento. E sono dovute in primis a una tendenza alla necessità di appunto navigare in acque che sono sempre meno note, sempre meno prevedibili. A fianco a questo c'è anche una tendenza a dover gestire imprevisti, non più tanto banali. Una settimana scorsa, dieci giorni fa, mi sono sorpreso a guardare online i profili di Bill Gates, Barack Obama, Elon Musk che promettevano su Twitter di restituire il doppio in Bitcoin a fronte di un versamento per l'utente. Quindi sto parlando del lacheraggio, dei profili importanti, di una marea di profili importanti su Twitter che ci fa, ci dà la misura anche di quanto effettivamente anche un gigante di Internet sia vulnerabile a questo tipo di sfide. sfide nei confronti delle quali le assicurazioni sono chiamate in causa e non possono reagire con gli strumenti abituali. Quindi sicuramente c'è una tematica di bisogno dettato da necessità e dettato dalle sfide del momento. Però c'è anche un tema di utilità dell'innovazione. L'innovazione gioca un ruolo importante anche in organizzazioni complesse, fatte di persone, di tante persone come le assicurazioni. Sicuramente l'innovazione gioca anche un ruolo di stimolo, di essere coinvolti in cose nuove ci dà a tutti una cifra maggiore e una soddisfazione maggiore riguardo a quello in cui siamo impegnati. Ci rende la giornata di lavoro sicuramente più interessante, ci lega all'azienda per cui lavoriamo e quindi tiene unita una missione per dirla un po' con uno slogan. Quindi diciamo c'è anche una forma di utilità all'interno dell'organizzazione a cercare di sfruttare questo tipo di viatico. Quindi abbiamo da una parte la spinta che deriva dalla digitalizzazione che è stata molto forte in questo periodo, quindi da un progresso tecnologico molto veloce, dall'altra parte una sfida anche interna, nel senso che l'innovazione viene vista anche come qualcosa che spinge di più verso dei modelli molto più competitivi. Vittorio Giusti, lei come lo vede questa situazione all'interno del settore assicurativo? Io partirei una riflessione dal perché tradizionalmente il settore assicurativo, se vogliamo, ha accumulato un certo ritardo rispetto ad altri settori finanziari e non. Ci sono una serie di fatti, una serie di ragioni per questo fatto. In primis le assicurazioni sono un prodotto a bassa frequenza di transazione, quindi un cliente sottoscrive una polizza, poi tendenzialmente sino all'anno dopo, sino al momento del rinnovo o al momento del sinistro, non ha frequente interazioni, quindi da un punto di vista di modelli di servizio, avendo poche transazioni, poca frequenza di transazioni, se confrontato ad esempio al settore bancario, è chiaro che c'è meno spinta da parte dei clienti, c'è sempre stata storicamente meno spinta e meno richiesta, meno domanda di servizi. Facciamo un confronto con il settore bancario, gli home banking che si sono affermati molti anni fa, oggi sono servizi rinunciabili a cui tutti noi, spesso anche più volte al giorno, accediamo per bonifici, consultazioni e quant'altro. Gli home insurance cosiddetti restano qualche cosa per utilizzo tutto sommato abbastanza sporadico. La seconda ragione è che nel settore assicurativo fenomeni di start up importanti che hanno rivoluzionato altri settori, i settori merceologici, non si sono verificati perché sostanzialmente ci sono delle forti barriere all'ingresso, c'è un tema di capitale, quindi l'allocazione di capitale è molto importante e è uno sbarramento piuttosto forte a chi da zero vuole far partire una compagnia di start up e da un altro punto di vista anche la compliance è particolarmente complessa e su scala sovranazionale poi i regolatori sono diversi uno dall'altro, quindi chi vuole innovare in maniera forte, lo vuole fare su una scala globale, ovviamente va incontro a questo tipo di difficoltà e per questa ragione nel corso degli ultimi due decadi dal fenomeno internet di fine anni 90 in poi avevamo accumulato un certo ritardo. Poi avvengono di volta in volta dei fatti molto spesso addirittura esterni, esogeni al settore assicurativo, la pandemia è un caso che lei ha poco fa citato, che ha spinto gli assicuratori ma in generale il modello distributivo e il modello operativo ha una impressionante accelerazione verso una diciamo minore compresenza del cliente rispetto all'intermediario, questo ha fatto fiorire firme elettroniche avanzate, dematerializzazione di contratti con una velocità e con una rapidità che diciamo in tempi normali non è comune per il settore assicurativo. A volte è lo stesso regolatore che interviene ad esempio con l'articolo 42 del regolamento 41, IVAS ha voluto introdurre una serie di funzionalità dispositive che sono andate live come sappiamo da poche settimane, dal primo di luglio di quest'anno e che consentono al cliente direttamente online di fare una serie di azioni, modifiche anagrafiche piuttosto che un cambio di beneficiario, piuttosto che una richiesta di riscatto di una polizza vita, una sospensione di una polizza auto o un pagamento o un versamento aggiuntivo e quindi ripeto è stato il regolatore a introdurre queste modalità perché di fatto gli assicuratori erano tradizionalmente ancorati a un modello lineare di compagnia, intermediario e cliente, quindi con gli intermediari che sono sempre stati di fatto specialmente nel ramo danni ma anche nel ramo vita col fenomeno bank assurance, l'interlocutore privilegiato del cliente. Adesso si va verso un modello di interazione con i clienti che vedrà il proliferare di una quantità di nuovi punti di contatto, di nuovi touch point con un service blueprint, con un modello di servizio che introdurrà fortissima innovazione lungo tutta la catena del valore della relazione fra il cliente e il suo assicuratore, quindi siamo certi che nei prossimi 3-5 anni le innovazioni che avverranno in questo settore saranno radicali e soprattutto saranno innovazioni, noi ci immaginiamo sul lato della distribuzione, quindi sul lato delle modalità con cui il cliente interagisce con i vari interlocutori secondo un modello che viene chiamato, come sappiamo, omni-channel. Io faccio sempre questa distinzione fra omni-channel e multi-channel, dove multi, lo dice la parola latina, multus, è la multitudine segregata, quindi veniamo da un contesto nel quale i canali distributivi erano a silos segregati, multi-channel, un canale agenziale, un canale banca, un canale diretto, un canale broker e questi canali erano segregati uno dall'altro, quindi se un cliente entrava a considerare, a fare un preventivo con un agente, poi tutta la sua esperienza stava all'interno del canale. Omni-channel andiamo verso il tutto, l'omnes omnia, il tutto inclusivo, quindi la goccia nel mare che diventa indistinguibile, il cliente entra dentro un service blueprint all'interno del quale di volta in volta sceglierà quel punto di contatto, vuoi online, vuoi offline, quindi una visita di un rischio in prima persona insieme a proprio gente, piuttosto che l'apertura di un sinistro online, il pagamento ovviamente elettronico che saranno sempre di più per arrivare alla quasi totalità nel giro di pochi anni da oggi e quindi tutto questo cambierà radicalmente il modo di fare assicurazione, come dicevo con grande impatto sulla distribuzione, ci immaginiamo anche il proliferare, diciamo l'evoluzione di molti modelli distributivi sino a realizzare delle vere e proprie distribution company che si occupano soltanto di distribuire prodotti il cui manufacturing viene fatto da compagnie carrier. Questa potrebbe essere in modo di vedere anche una risposta alla lunga discussione sull'ingresso dei big tech, dei vari Amazon, Google, Facebook, ci siamo per anni interrogati se come e quando sarebbero entrati nel settore assicurativo, la risposta potrebbe essere che il settore assicurativo propone nuovi modelli di distribuzione interattivi, digitali, omnichannel e che crea una customer experience assolutamente in linea con quelle che sono le esigenze dei clienti di oggi. Quindi questa diventa anche una grande sfida per i dipartimenti tecnologici all'interno delle compagnie di assicurazione, tra le altre unito anche al fatto che ci saranno a disposizione moltissimi dati anche per poter costruire un'offerta personalizzata. Vittorio Giusti, come le vede queste nuove sfide? Il grande tema dell'informatica nelle assicurazioni è che i grandi programmi di trasformazione hanno degli orizzonti temporali che oggi non sembrano più essere compatibili. Da un lato con l'evoluzione la modifica, la fortissima spinta che c'è sul lato della domanda, quindi sulla necessità di innovare. La disponibilità di tecnologie che stanno accelerando in modo impetuoso, quindi se io oggi metto in piedi un programma di durata a 3-5 anni, evidentemente il rischio di essere live quando il contesto intorno è cambiato è molto alto. È anche complesso nelle grandi compagnie di assicurazione gestire programmi di lungo periodo nei quali dobbiamo mantenere un forte equilibrio fra tutti gli stakeholder che ruotano intorno ai grandi progetti di innovazione, che sono stakeholder interni, top management, nelle compagnie multinazionali e anche le relazioni con casa madre, le relazioni con gli interlocutori, gli agenti, i broker, quindi mantenere tutte queste relazioni e tutta questa sponsorship per un arco temporale lungo è sempre più difficile perché le spinte, come dicevo, sono tantissime. E allora si va verso una innovazione che tende a privilegiare soprattutto la customer experience da un lato, quindi tutto il mondo dei cosiddetti front-end, come ha fatto anche con un certo successo anche una parte del canale bancario, quindi questa potrebbe essere una tematica, mantenere fermi e consolidare i sistemi tradizionali di portafoglio, di billing, di contabilità, ma creare attraverso degli opportuni integration layer, quindi dei livelli di integrazione al servizio, creare quindi delle esperienze cliente o intermediario assolutamente evolute al passo con i tempi e fatte con una modalità, se vogliamo, un po' disruptive, quindi cercando di innovare radicalmente, perché l'altro tema che ci siamo accorti nel corso degli anni è che l'innovazione incrementale tende a essere spesso più costosa e addirittura più lunga dell'innovazione un pochino più distruttiva, un pochino più così rivoluzionaria. Quindi, Marco Burattino, ci si aspetta quindi un'innovazione veramente profonda e quindi questo darà un grosso lavoro di cambiamento anche all'interno dei dipartimenti di tecnologia. Mi collego un po' a quello che ti diceva poco fa Vittorio, aggiungo un'ulteriore sfumatura che fa, secondo me, anche da cornice di riferimento. È diventato probabilmente troppo complesso riuscire a governare quello che oggi serve per l'operatività della compagnia, per farlo con gli strumenti tradizionali. Questo afferisce a determinati tipi di domande ataviche che ci si è posti all'interno dell'informatica delle assicurazioni negli anni e anche a modalità con le quali questi lavorano. Faccio un esempio su tutti, quello che riguarda per esempio ai sistemi informativi di core business, la scelta tra soluzioni cosiddette make or buy, quindi farsi in casa i propri sistemi oppure acquistarli all'esterno. Certamente il mondo oggi ha una complessità tale che sembra che anche i player storicamente più forti da un punto di vista informatico, e i servizi finanziari lo sono sempre stati perché sono stati i primi ad avere bisogno di informatica storicamente, sembra che ci si stia rendendo conto di questa complessità del peso eccessivo. Quello che prima diceva Vittorio in relazione allo spostamento verso i front-end, verso le interfacce dell'innovazione, altro non è che scegliere un campo di battaglia un po' più illimitato dove concentrarsi. Allo stesso tempo, dall'altra parte, quindi anche sulla novità delle tematiche di cui parliamo, se io oggi devo pensare, faccio un esempio, a come normare il mondo della sicurezza informatica, io non vado più dal legislatore, non mi aspetto più che la risposta sia all'interno del legislatore, o almeno so che deve venire da lì perché c'è un tema di autorità, ma so anche perfettamente che se parliamo di sicurezza informatica ci sono dei signori che sono dell'Oceano Pacifico che ne sanno attommellate in più di Unione Europea, di qualsiasi tipo di regolamentazione, perché tutto va estremamente veloce. Questo secondo me è anche una cosa che ha un effetto profondo su come effettivamente sta cambiando l'informatica, nel senso che se guardiamo a vent'anni fa, all'inizio dell'epoca di Internet, vedevamo che il CIO, il Chief Information Officer del Direttore del Dipartimento IT, aveva un ruolo un po' da evangelizzatore all'interno di un'azienda, nel senso che era quello che capiva più degli altri, tematiche che stavano arrivando e che promettevano tantissimo di poter essere strategiche per il futuro e quindi avevano il compito di farla entrare nella testa degli altri soggetti della leadership dell'azienda. Quelli erano i tempi che abbiamo visto all'inizio. Poi è successo che è stato talmente evidente che data is eating the world, che software is eating the world, che l'informatica è un tema che è in prima pagina anche per gli altri si level aziendali. Questo cosa comporta? Comporta anche una mutazione ulteriore di quello che viene chiesto al direttore informatico di qui sopra, che non è più un evangelizzatore, ma ha un compito se vogliamo un po' più difficile da un punto di vista relazionale e di coordinamento e di gestione di proprio stakeholder, perché appunto la sfida non è più quella lì di andare a selezionare delle idee intelligenti e cercare di suggerirle al board, ma la sfida è quella di raccogliere le tantissime sollecitazioni che arrivano da tutti i si level aziendali ormai, perché ripeto, tutto alla fine ha un riverbero, col digitale tutto un riverbero che riguarda l'informatica, i dati, il software eccetera e cercare di armonizzarli. Ecco, quindi Burattino come dovranno essere gli assicuratori del futuro e quali skill dovranno avere? Beh, un'altra delle cose che è cambiata negli anni, anche se vogliamo andare a fare un po' di statistica delle osservazioni che abbiamo visto negli anni sull'evoluzione del ruolo della leadership all'interno delle compagnie di assicurazioni, noi siamo sempre stati abituati a vedere l'amministratore delegato di una compagnia assicurativa come espressione del mondo tecnico. Abbiamo visto nel passato che tipicamente chi faceva inizialmente, la persona che riceveva l'incarico di guida di una compagnia assicurativa molto spesso era sempre, negli anni è sempre stato colui il quale aveva le chiavi tra virgolette attuariali o in termini di rischio dell'azienda. Se vogliamo poi questa figura sia un po' evoluta e abbiamo visto che c'è stata l'epoca in cui le chiavi dell'azienda erano date a coloro i quali avevano la gestione della finanza, quindi al CFO. Oggi secondo me viviamo in un mondo in cui, ed è collegato secondo me alla risposta precedente, le chiavi dell'azienda vengono sempre più date ai chief operating officer, cioè a coloro i quali fanno andare avanti la macchina e la sua complessità. Questo anche a fronte di quelle che sono i cambiamenti, prima parlavamo di quelli nel settore IT, ma se guardiamo la parte di business operativa delle compagnie assicurative, quindi l'assunzione, la gestione del portafoglio, il mondo dei sinistri, quello che osserviamo lungo tutte queste filiere e di dati ne abbiamo, di indicazioni ne abbiamo a IOS da questo punto di vista, una progressiva maggiore complessità nella gestione dei fondamentali e quindi sul mercato vediamo tipicamente con un irrigidimento e una complessità maggiore di quelle che sono le tariffe e le condizioni, una maggiore attenzione a normare varie casistiche. Questo cosa ha come ulteriore conseguenza? ha che quello che è uno shift che si è sempre predicato nel cercare di limitare sugli operatori delle assicurazioni l'esecuzione di task a basso valore aggiunto comincia a diventare una condizione di sopravvivenza perché le risorse di queste persone servono per gestire tematiche complesse come il corretto dimensionamento di un rischio e la corretta risposta da un punto di vista di pricing, di tariffe e di servizi. Ecco giusti, lei è d'accordo e anche per lei l'assicuratore appunto dovrà gestire delle tematiche molto complesse ma avrà bisogno anche di competenze diverse rispetto ad adesso? Sì, diciamo che quello che è cambiato profondamente nel corso degli anni è proprio il concetto di mutualità. I rischi erano molto indifferenziati quando io ho iniziato a fare questo mestiere, quindi da antico agente di assicurazioni e promotore finanziario, quindi attivo sia sulla parte vita che sulla parte danni, vedevamo un qualche cosa che era estremamente più semplice sulla parte vita, tutte le tematiche legate alla solvibilità, all'ocazione del capitale non c'erano, così come tutta la gestione anche in un mondo pre-euro, un mondo praticamente anche sottoposto a forti tassi di inflazione, insomma era tutto molto più semplice. Sulla parte danni la mutualità era molto indistinta, quindi la capacità degli assuntori, quindi degli underwriter di andare a selezionare i rischi e di andare a, così in maniera molto sofisticata, andare a cercare di distinguere i buoni rischi e i cattivi rischi era abbastanza relativa. La liquidazione dei sinistri era un qualche cosa di generalista, quindi c'era una prossimità territoriale perché evidentemente non c'era la capacità di scambi informativi e flussi documentali, quindi i liquidatori andavano a liquidare direttamente sul territorio, le compagnie avevano ispettorati a livello cittadino o provinciale e un liquidatore sostanzialmente liquidava qualsiasi tipo di sinistro con una competenza se vogliamo abbastanza generica. Cosa è successo negli anni? Siamo andati a una fortissima specializzazione, quindi tornando all'esempio dei liquidatori, oggi le compagnie vanno verso modelli specializzati in cui esistono non più prossimità territoriale, ma centri di liquidazione accentrati in direzione, quindi lontani se vogliamo dal cliente, ma con fortissime competenze di linea di business, quindi ci sarà il liquidatore della parte infortuni piuttosto che quello della parte auto o quello della parte cauzioni o quant'altro. Allo stesso modo l'introduzione di strumenti e innovazioni in ambito di analisi delle informazioni, quindi capacità di geolocalizzare i rischi, capacità di conoscerne quindi grazie al posizionamento l'accumulazione da un punto di vista anche di esposizione, la capacità quindi di interagire con i riassicuratori in un modo diverso innovativo. La competizione che poi si va a manifestare sul territorio, sui clienti, sui buoni rischi, fanno sì che oggi l'assicuratore è una persona estremamente competente, dove le attività di upskilling che fanno le compagnie da un punto di vista formativo non sono mai sufficienti e come diceva Marco sono assolutamente d'accordo sul principio per cui dovremo andare in maniera massiva a automatizzare attraverso strumenti anche di robotica o di automazione o comunque piattaforme innovative, andare a automatizzare una grande quantità di piccole e grandi attività a basso valore aggiunto. Quindi trovare il modo di concentrare le skill, le competenze sempre più evolute dei nostri collaboratori su contesti di altissimo valore aggiunto e quindi non più gestione del portafoglio, appendici di regolazione premio, riconciliazione di incassi e di fogli cassa, immaginate quante attività ci sono collaterali alle attività vere e proprie di assicurazione che tutt'oggi nelle compagnie di assicurazione per vari motivi hanno ancora una forte manualità. Certo mi riallaccio al discorso della pandemia perché ho osservato con un certo stupore che tutte le discussioni sulle stampanti, sulla carta, sulla difficoltà quindi di andare su un modello completamente paperless, sono state letteralmente spazzate via dallo smart working massivo che prevede che tutti i nostri collaboratori sono andati dalla settimana numero due, quindi dall'annuncio del problema verso la fine di febbraio, una settimana dopo avevamo tutti i nostri collaboratori in smart working evidentemente senza stampe, senza carta e siamo riusciti egregiamente a lavorare, certo se ce lo fossimo domandato un po' di tempo prima forse non sarebbe stato così, quindi ripeto sull'onda di alcune spinte che arriveranno, ovviamente auspichiamo che non siano spinte tragiche come quella della pandemia, però evidentemente una serie di fatti esterni molto spesso al perimetro stretto delle compagnie faranno sì che andremo verso una fortissima automazione dei processi, una forte riduzione dell'impatto dei processi a basso valore aggiunto e una grande evoluzione delle competenze degli assicuratori in un'ottica anche di ricambio generazionale, oggi vediamo, abbiamo collaborazioni aperte con università, quindi in varie modalità, andiamo oggi a reclutare dei giovani che hanno competenze molto avanzate sia da un punto di vista di data scientist piuttosto che nel mondo cyber, la cyber security è un tema di un'importanza La interrompo un attimo perché siamo arrivati in chiusura e una battuta soltanto sull'evoluzione della distribuzione assicurativa, ne abbiamo già parlato quando appunto lei, Vittorio Giusti, diceva che c'è questo passaggio da multichannel ad omnichannel, magari in una battuta se si può dire quale può essere all'interno di tutto questo processo evolutivo di innovazione il futuro della distribuzione, mi rendo conto che è tanto però No ma le posso dire, guarda, soltanto un concetto, velocissimo, le compagnie storicamente iniziavano a vedere il cliente al momento del preventivo, quindi c'era qualcun altro, un intermediario, un agente che faceva tutta l'attività di contatto, di appuntamento, le compagnie vedevano preventivi, i polizzi e da quel punto in poi la storia cliente nasceva e nel prossimo futuro le compagnie saranno sempre più presenti nella parte del pre-sale, quindi nel momento in cui il cliente scopre di avere un bisogno, nel momento in cui il cliente considera questo bisogno rispetto a una pluralità di offerta che non arriva più soltanto tradizionalmente attraverso la proposta di un consulente, ma in un mix omnichannel con tanti punti di contatto diverso e con grandissime opportunità per le compagnie di presidiare in modo forte la relazione con il proprio intermediario che ripeto rimarrà sempre fondamentale conoscendo sempre di più i clienti, i loro bisogni, le necessità e trovando in tutto questo un vantaggio competitivo. Ecco Burattino? Solo una cosa, c'è tanta strada da fare, tanta 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 sul discorso di distribuzione, soltanto due dati. Il primo magari è più chiaro agli operatori del settore. Io vi ricordo cos'era un ufficio marketing di una compagnia assicurativa all'inizio degli anni 2000 e il gap rispetto ad altri settori merceologici, a come facevano il marketing, era effettivamente molto molto vistoso. Lo è ancora oggi sicuramente di meno ed è importante partire anche dal discorso marketing perché comunque la rete distributiva, soprattutto quando non è proprietaria, come nel caso delle assicurazioni, ha bisogno da un certo punto di vista di un supporto. La seconda provocazione è, osserviamo anche la tipologia di interlocuzione che oggi abbiamo con un agente di assicurazione o con un private banker nell'ambito bancario, anche di clientela, diciamo retail e anche qui abbiamo una misura di un gap esistente che va colmato. Quindi questo diciamo è il bisogno di cambiamento in valore assoluto importante è secondo me la cosa principale su cui muoversi. Bene, direi che chiudiamo con queste due provocazioni. Abbiamo terminata la nostra puntata di New Insurance e io ringrazio molto Marco Burattino, Sales Director Italia e Polonia per Guidewire e Vittorio Giusti, CEO di Aviva Italia. E arrivederci a tutti alla prossima puntata di New Insurance qui sulle fonti TV. Grazie.